Salve a tutti e bentornati in questo piccolo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore all'avvio di Adobe Premiere Pro ovviamente io se vado a cliccare su Premiere c'è la rotella che gira vicino alla freccia e non si apre ovviamente Adobe Premiere Pro è in esecuzione quindi si è avviato ma non riesci a vederlo quindi se tu vai su logo di Windows gestione attività ed eccolo qua Adobe Premiere Pro è abilitato questo qua tu fai termine attività clicchi sopra e fai termine attività chiudi qua e riapri così Adobe Premiere ed eccolo qua Adobe Premiere Pro si è aperto senza problemi e si sta anche caricando quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore all'avvio di Premiere iscriviti e lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo su un prossimo tutorial ciao